Musica Lo sport a Padova, in questo appuntamento di Obiettivo Città parliamo di impiantistica e interventi, la linea all'assessore Cinzia Rampazzo. Salve, sono Cinzia Rampazzo, sono lo sport del Comune di Padova con deleghe all'impiantistica sportiva, alle manifestazioni sportive. Come settore servizi sportivi abbiamo circa 800 società e associazioni sportive direttantistiche a cui diamo una mano e sosteniamo in tutte le attività che fanno per i cittadini del nostro Comune. Dicevo aiutiamo anche perché quest'anno abbiamo dato come contributo a parecchie associazioni un totale di 750 mila euro per attività di sostegno alle attività giovanili e ad alcune manifestazioni che hanno organizzato. Quindi direi un bel contributo, sicuramente quasi il doppio di quello che veniva concesso negli anni precedenti. Come impiantistica sportiva direi che il sindaco essendo anche un ex sportivo avendo fatto rugby ancora oggi e anche si occupa di corsa, fa maratone e faremo anche prossimamente insieme la mezza maratona di Padova, ci mi dà una mano concreta nel gestire i vari problemi di impiantistica sportiva. Abbiamo circa 70 impianti comunali dati in gestione diretta o non diretta a varie società e c'è da mettere mano abbastanza a tutti questi impianti. Ci sarà da mettere in ordine la normativa sul certificato di prevenzione incendi e ci stiamo adoperando con i vari settori e i tecnici del comune per provvedere a questo. Non solo, anche nella parte elettrica e di rifacimento anche di impianti sportivi, tra cui già si sa la notizia dello stadio del plebiscito che verrà messo a disposizione del calcio Padova, ma non per questo non sarà a disposizione anche del rugby e lì metteremo a disposizione circa 3 milioni di euro per la risistemazione di questo impianto in cui verranno rifatte due nuove tribune per i tifosi locali e i tifosi ospiti, la prima di 3 mila posti e la seconda di mille e lo stadio verrà anche attrezzato di nuovi seggiolini, parcheggi e altre strutture che daranno una valenza di novità a questo impianto. Avremo anche la sistemazione dello stadio a Piani, a Step, è già partita la ristrutturazione della tribuna Ovest grazie anche al sostegno di Bir Antoniana che ci ha dato una mano per questo impianto e adesso prossimamente partirà la ristrutturazione dell'ultima parte di questa tribuna, la parte sud e qui stiamo partendo con il nuovo bando a giorni. Ritornando al plebiscito, il bando partirà tra, penso, entro un mese partirà il bando per la gestione dei lavori e so che in questi giorni verrà presentato il progetto preliminare per l'approvazione in giunta e poi si partirà con il nuovo bando. Avremo anche in previsione di rifare, di mettere mano al Colbacchini, lo stadio di atletica di Padova, l'Arcella e anche qui abbiamo previsto 1.800.000 euro per il rifacimento della pista, portarla da 6 a 8 corsie e una nuova tribuna da 2.000 posti, dalla parte opposta a quella attuale e rifacimento, rimessa a norma, degli spogliatoi e di tutti gli altri servizi. Grazie.